E di gioielli meravigliosi di Monile Gioielli, un artigiano, Domenico Maisto, che si trova anche alla galleria Ciccarelli di Giuliano, dove sei? Domenico, ah sei lì Domenico, perché ho ancora individuato. Spieghiamo velocemente questi gioielli, che tipo di pietre sono costituiti. Buonasera. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere intervenuti a questa splendida manifestazione. Partiamo dagli orecchini. Allora, questi orecchini meravigliosi, pendenti, scintillanti, che cosa sono? Sono orecchini in oro 18 carati, con topazzi azzurri e diamanti gigolo, che sono realizzati a mano dai nostri artigiani, che sono pezzi unici. Tutti i gioielli che noi produciamo sono tutti in pezzi unici. Adesso passiamo al bracciale, il bracciale che dopo porterò a casa. Cos'è? Magari. Allora, questo bracciale cos'è? Cos'è il formato? Vedo delle pietre trasparenti, quindi mi piace particolarmente. Sono tutti diamanti gigolo e sono incastonati su una maglia tradizionalissima, la famosa grumetta in oro bianco, che è una maglia intramontabile. Bene, quindi mi piace, posso portare via. Mentre questo anello strepitoso, mi va un po' largo, ma non ti preoccupare, me lo puoi anche stringere, quindi basta una misura in meno, poi è perfetto. Una pietra verde molto molto luminosa. E allora? Parliamo di un anello realizzato sempre in oro, 18 carati, con diamanti e questa pietra verde, che è una pietra molto particolare, si chiama Tanzanite, ed è una pietra molto rara e pregiata. Costosa? Sì, mediamente. I gioielli di soldi e i gioielli autentici sono mediamente costosi, non sono gioielli economici. I gioielli economici sono altre linee che noi abbiamo anche, ma quando facciamo qualcosa... Che devo indossare io? Perché stavo parlando proprio di questo, che ovviamente la modella più prestigiosa ce l'ho io stasera, e quindi proporzionati anche alla signora che le indossa. Grazie, grazie Domenico Meisto.